Buongiorno, vediamo oggi cosa ci dice l'oroscopo. Arriete, attenti a quello che vi viene proposto oggi, meglio essere sicuri che non ci siano sorprese o inganni. Toro, Giove vi offre nuove opportunità, soprattutto di ricevere nuove energie. Gemelli, mettete da parte potendo qualche risparmio, è il caso di fare economia su tutto. Cancro, state per conoscere una persona nuova molto interessante. Leone, ignorate le mali lingue e continuate ad andare avanti per la vostra strada. Vergine, se state progettando il futuro, fatelo con cura e intelligenza. Bilancia, vi renderete conto che tutti gli sforzi fatti ultimamente sono andati persi. Scorpione, dicerie e indiscrezioni sul vostro conto potrebbero alla lunga danneggiarvi. Sagittario, oggi cercate di non essere pigri e attendere tempi migliori. Capricorno, non precipitate le cose, la fretta non serve, dovete restare calmi. Acquario, poca sicurezza nei rapporti con gli altri, la vostra timidezza potrebbe tirarvi qualche brutto scherzo. Pesci, socializzate molto con amici e conoscenti, anche in chat o al telefono. Questo è tutto, a domani con il prossimo appuntamento dell'oroscopo. Grazie.